Mario Cordone, dunque, è grossa soddisfazione per aver sconfitto l'Olimpia agnonese, una partita condizionata fortemente dal vento? Sicuramente è una partita condizionata dal vento, ma condizionata per tutte e due, insomma. Non a caso noi abbiamo fatto molto bene il primo e loro il secondo. È stata una partita che merita la classifica attuale, insomma. Sapevamo di affrontare una grossa squadra, anche se nell'ultimo periodo forse aveva avuto qualche difficoltà, però anche oggi si è dimostrata una grande squadra e noi altrettanto siamo cresciuti molto e c'è stato veramente un bel segno di maturità perché poi sono queste le partite che ci fanno capire dove arrivare. Assolutamente, dunque siamo nella parte finale del campionato, la classifica si è un po' accorciata, magari c'è la volontà di recuperare qualche posizione anche in ottica play-off. Io penso che ormai, diciamo tra virgolette, la guerra è proprio nel rubarsi domenica dopo domenica tra seconda e terza e quarto posto. Penso che il primo è andato e non so se si farà il play-off con la quinta. Ecco, questo è quello che ad oggi è l'attuale classifica. Sapevamo oggi che comunque era una partita importante e l'abbiamo fatta bene, secondo me nel contesto generale l'abbiamo anche meritata e va bene così. E quindi vi preparerete al massimo per questo finale e soprattutto c'è comunque soddisfazione per aver sconfitto qui sia il Termoli che l'Agnonese? Sì, diciamo che sicuramente sono soddisfazioni, ma quello è più che di per sé sulla partita singola è un discorso proprio per vedere quanta pressione e quanto si può fare affrontando una grande squadra.